Ciao a tutti ragazzi, sono TurtleCute, sono gestore del canale su Telegram riguardo la privacy, la sicurezza, privacy folder e abbiamo organizzato questa piccola live con Riccardo Masutti e Giacomo Zucco. Ciao a tutti. Volevamo affrontare principalmente gli recenti avvenimenti su Wasabi Wallet, abbastanza spiacevoli. Riccardo, vuoi raccontarci tu un pochino cosa è successo, l'accaduto? Ma va bene, Renzo, io comunque ho contribuito, ho lavorato con il team di Wasabi per un bel po' di mesi e questa cosa comunque l'ho vissuta proprio all'interno. Diciamo che era una cosa inevitabile che ci aspettavamo, tutti si aspettavano, in realtà io l'avevo immaginata giusto due anni fa, ho detto che entro due anni sarebbe successo e così è caduto. Comunque, quel punto centrale qual è? Che vorrei subito chiarire, cioè vorrei partire in questo video spiegando che è bene distinguere Wasabi Wallet come software open source e ZX Next come azienda che lavora e opera in una giurisdizione. Allora adesso, quello che è successo è che l'azienda, che è il coordinatore impostato di default su Wasabi, applicerà delle tecniche di blockchain surveillance, blockchain analysis per vietare determinati UTX o non partecipare nel coin join. Però Wasabi in sé come software non è che, o la back-end riferimento, non è che attuerà, diciamo, politiche di blockchain analysis, ma sarà insomma una cosa che fa il coordinatore default che è ZX Next o che potranno fare, se vogliono, altri coordinatori che, insomma, parteciperanno in questo, diciamo, chiamiamolo protocollo, tra virgolette, di coin join, questa grande transazione che si chiama coin join, e coordineranno tutti gli utenti per, appunto, mettere la semia in comunicazione e creare questa grande transazione. Quindi in realtà, vedete, Wasabi in sé come software wallet rimane assolutamente un progetto aperto, libero, senza alcun tipo di censura e di limitazione di UTX o, mentre chi coordinerà i vari coin join, appunto, e farà da coordinatore, potrà decidere, come già accadeva in realtà, di fare blockchain analysis o meno. Ok. Quindi, al momento però, su Wasabi è già possibile utilizzare coordinatori differenti da quello di default. Cosa ne pensi? Sono utilizzabili? Sono sconsigliati? Ma, guarda, io ci sono circa una decina di coordinatori, di cui tre pubblici, tre, quattro pubblici e altri privati. Quelli pubblici più famosi sono gestiti uno da Parallel Nipolis, che è, diciamo, un'organizzazione che si trova a Praga, e uno ha gestito da Chain Case, che è un, diciamo, un software wallet mobile che sfrutta Wasabi per mettere il coin join da mobile. Adesso, se noi vediamo questa cosa dei coordinatori sotto un punto di anonymity set, quindi quanto volume fanno, ecco che io sinceramente sconsiglierai caldamente di utilizzarli, di impostare su Wasabi per fare un coin join, perché comunque l'anonymity set è così basso che, innanzitutto, cioè le transazioni costicchiano, secondo, comunque ci vuole molto molto più tempo, perché ci sono pochi utenti che fanno coin join, quindi in realtà se si tratta di pochi con il giorno al giorno, se va bene, e terzo, ripeto, sono ancora troppo, cioè pochi utenti. Ho visto comunque su Twitter che c'è questo nuovo account che si chiama Wasabi BTC, che vuole, insomma, avviare un nuovo coordinatore che si potrà impostare, eccetera, eccetera, eccetera. Però, ripeto, io da quello che ho visto, leggendo i commenti di questa persona qua, sembra che sia uscita un po' dal nulla, cioè, come competenze tecniche, non lo so quante competenze tecniche abbia la tua Wasabi, leggendo semplicemente i tweet e i commenti che hanno fatto. Però, ripeto, i coordinatori ce ne sono, ce ne saranno, perché l'esperienza ci dimostra che quando chiudi una cosa del genere, nascono altre mille come i funghi, o come su Darknet, come il Darknet Market, perché è essenzialmente un idra, cioè gli tagliano a testa e ne escono altre tre. Alla fine c'è un incentivo economico per gestire un coordinatore, adesso si farà gara e probabilmente nell'arco dei prossimi mesi ci saranno una serie di nuovi coordinatori che cercheranno di accaparrarsi i più utenti possibili. Adesso, quello di default, che è Zeki Snacks, che è essenzialmente l'azienda che ha creato Wasabi e sponsorizza il developer di Wasabi, rimarrà come default sul repository e sul Wasabi Wallet originale, tra virgolette. Quindi applicherà tecniche di blockchain surveillance e blockchain analysis e vieterà una serie di UTX nel partecipare ai coin join. Però, ripeto, chiunque può impostare un altro coordinatore. Ripeto, attualmente mi sento di sconsigliare, cioè non consiglio alcun coordinatore per la mancanza di liquidità. E anche perché in realtà, ripeto, un coordinatore potrebbe benissimo dire, vabbè, noi non loghiamo, noi non facciamo c'è un'analisi, se non facciamo queste cose, però in realtà lo fa. Cioè non possiamo essere sicuri. L'utente può essere sicuro che il back-end che gestisce il coordinatore è quello che viene mostrato sul codice. Perché comunque le regole di CoinJones come funzionano su Wasabi, metto in comunicazione tutti gli utenti che fanno CoinJones, il coordinatore, e tutti devono sottostrere una serie di regole. Però non sappiamo poi se questo coordinatore logga, se questo coordinatore banna, prescindere da alcuni UTX o è meno, perché si basa comunque su un concetto di fiducia e trust. Quindi questo è il mio riassunto sul discorso coordinatori. Sì, diciamo che anche perché per quanto tecniche alternative siti o applicazioni che permettono sempre di fare CoinJones, come per esempio JoinMarket, hanno implementato delle tecniche per perlomeno limitare attacchi simili a un civil attack, quindi di possibili amministratori del CoinJones malevoli, però al momento su Wasabi non ci sarebbe nulla del genere per limitare che colui che gestisce il CoinJones sia un ente malevolo se noi cambiamo quello di default. Esatto, c'è anche questa cosa qua, nel senso che nel coordinatore di default uno non può sapere se effettivamente il coordinatore in primis aggiunge liquidità fittizia per fingere che ci sono più utenti, e quindi fingere un asset più alto e contemporaneamente aumentare le fee per tutti, perché una cosa importante a sottolineare è che le commissioni su Wasabi dipendono dal numero di partecipanti di CoinJones, quindi più partecipanti ci sono e più costa la transazione in sé, più commissioni vengono pagate al coordinatore. Quindi in realtà un coordinatore è incentivato nel aggiungere liquidità fittizia, quindi anche qua, ripeto, probabilmente nasceranno i coordinatori nuovi, però non possiamo fidarci al 100% che la liquidità sia reale, perché appunto c'è un incentivo di fare auto-sibile. Sul discorso di G-Market, sì, ci sono delle tecniche per diminuire gli attacchi, i sibili attacchi, però secondo me non sono così efficaci, nel senso che per chi non lo sapesse, un pari di mesi fa sono stati implementati i Fidelity Bond, che consistono nel concetto di prendere magari dei Bitcoin, o una quantità di Bitcoin, bloccarli fino a una determinata data o bruciarli, bruciarli nel senso che possiamo, tra virgolette, rendere inutilizzabili, però se non sbaglio non è ancora effettiva questa cosa qua, e questo permette a chi vuole effettuare CoinJoin con noi tramite JoinMarket di fidarsi un po' di più, perché appunto vede che un utente, o più utenti, hanno deciso di bloccare una serie di Bitcoin come sacrificio, tra virgolette, per aumentare un po' la reputazione che hanno. Però la mia idea, come mi sono fatto su JoinMarket nell'ultimo anno, anno e mezzo, è che sta avvenendo un sibili attacchi incredibile. Penso che anche Giacomo, se si è accorto, potrà confermare, si è vista proprio una crescita esponenziale di un sacco di nuovi market maker con importi di Bitcoin bassissimi, con fee bassissime, che cercano un attimo di intercettare tutti quanti i CoinJoin. Quindi in realtà è difficile dire che ci sono delle soluzioni che funzionano al 100% per arginare il problema del sibili attacchi, però anche sui GiacMarket questa problematica esiste, e forse è anche più alta rispetto a un'implementazione come quella di Wasabi. Perché? Perché, per esempio, poniamo caso che io sia un coordinatore onesto che non faccia auto-sibili. Bene, se un domani un'azienda come Liptic, Chain Analysis, Neutrino, eccetera, eccetera, decidessero di fare Sibili Attacchi su Wasabi, sì, certo, magari aumenterebbero la probabilità di individuare e di collegare input e output, però comunque ha un costo che nel tempo diventa enorme, perché dovrebbero partecipare ad ogni CoinJoin, ad ogni round, probabilmente con più client, e ogni volta dovrebbero pagare delle fee. Quindi in realtà, sì, magari diminuisci la possibilità di permettere ad altri attori esterni malevoli di fare Sibili, però sì, non è, diciamo, una soluzione efficace al 100%. Ok, perfetto. Dopo al massimo approfondiamo un pochino Joy Market in seguito e fare varie alternative a Wasabi. Intanto chiederei già come un pochino se si aspettava questa cosa, come ha reagito alla cosa, cosa ne hai pensato, è qualcosa da dire a riguardo. Sì, non ho fatto una profezia da Nostradamus così azzeccata sul timing come ha fatto Riccardo dall'interno, però sicuramente è ben discusso anche con il creatore di Wasabi diverse volte, una legal entity che fa questo tipo di attività, anche se sulla carta non fa altro che gestire e passare messaggi criptati che lui non può leggere, quindi quello che fa il server, che fa da coordinatore di questa attività, gestito dalla compagnia Zikersnecks, non fa nient'altro che ricevere e passare messaggi criptati e firmati, quindi pacchetti criptografici che non può leggere, nient'altro, secondo uno standard prestabilito. Quindi non fa niente diverso da Telegram, non le chat private, da Signal, se Telegram e Signal non devono leclistare cose, fare spionaggio sugli utenti, legalmente non ha senso che lo faccia loro. L'unica differenza che si potrebbe obiettare è che se uno considera Bitcoin denaro, il coordinatore in questo caso prende delle fie, ovvero transa dei messaggi, ma in cambio di transare questi messaggi, di fare questo lavoro, prende delle fie. Comunque diciamo che al di là della logica giuridica, che come sappiamo uno ci si pulisce, quello che deve pulirci, quando è una questione di potere o di minaccia del sistema di censura finanziaria, nel senso che siamo in un mondo in cui se un giornalista pubblica crimini di guerra, si cerca di mettere in galera vita il giornalista, che è Julian Assange a dispetto di qualunque logica giuridica. Quindi di fatto non c'è nulla che dovrebbe imporre qualsiasi tipo di azione, di controllo su un'attività come qualsiasi che snarks, ma a livello di concetto di diritto, ma a livello di fatto era da aspettarsela. Addirittura non para il 73 quando ha inventato questo modello di CoinJoin. CoinJoin sostanzialmente, ricapitoliamo giusto per chi veramente fosse un attimino fuori, come un pesce fuori d'acqua in questa conversazione. CoinJoin è una nozione scoperta nel 2013 da Gregory Maxwell, che si può, lasciando il protocollo Bitcoin così com'è, fare transazioni collaborative per confondere i legami tra diversi, chiamiamoli così, diversi indirizzi entri nella blockchain. Questi CoinJoin sono fattibilissimi con il protocollo attuale, ma bisogna coordinarli che è una fatica. Allora i primi coordinatori, prima del 2017, vedevano tutto quello che facevi, quindi loro praticamente non potevano toccare i soldi a differenza dei mixer centralizzati, ma potevano spiare gli utenti. Quindi gli utenti guadagnavano privacy rispetto al mondo esterno, ma non l'avevano rispetto al coordinatore. Adam Fisher, no para il 73, ha inventato una tecnica che si chiama, ha riutilizzato una tecnica anni 90 che si chiamava Xiaomi Ancash su questi CoinJoin creando quello che lui chiama Zero Link. Quando lui ha fondato questa, quando ha creato questo software, lui non voleva in realtà fondare una società. Mi ricordo discussioni successive al 2017 in cui la sua aspirazione era esattamente creare una società che faceva solo software house, distribuire il software, e poi lasciare in mano a degli anonimi sul sito Onion il compito di coordinare e di fare i soldi. Ovviamente questo aveva anche dei vantaggi, ma anche dei svantaggi. Il vantaggio è che tu sai che se non ti trovano facendo caccia all'uomo pazzesca in stile Silk Road, non ti possono tassare, regolare, chiudere, censurare, costringere a spiare gli utenti e niente di questo genere. Lo svantaggio è che i tuoi utenti non hanno dove venirti a prendere per fartela pagare se ti comporti male e quindi potresti avere più incentivi a comportamenti scorretti come per esempio l'auto Sibyl, il gonfiare per finta l'unimiti set o il fare addirittura altri tipi di attacchi, il loggare cose anche crittografate e tenerle via quando dici non farlo. Quindi c'è un'arma a doppio taglio che è se è più resistente alle rivendicazioni dei governi, quindi puoi evitare di farle male ai tuoi utenti per legge, ma se è meno resistente ai tuoi utenti e quindi puoi fare più male agli utenti senza che questi si possano vendicare. Quindi c'è sempre stata questa consapevolezza e sicuramente Adam non era sorpreso da questa consapevolezza. Ovviamente come diceva prima Riccardo, non è che si crea una società centralizzata o un ente centralizzato rispetto a usaggi in market per niente, ci sono dei vantaggi e dei svantaggi. Un coordinatore chiaramente ha dei svantaggi rispetto al joint market che è decentralizzato, ovvero il coordinatore in joint market c'è, ma sei tu che chiedi a fare il joint joint. Cioè tu che paghi, nel caso di Wasabi paghi il coordinatore per coordinare te e altri utenti paganti. Nel caso di joint market tu che paghi, sei tu che coordini e paghi quelli che vengono a darti liquidità che invece vengono coordinati da te. Quindi ci sono dei vantaggi nel modello centralizzato di Wasabi, sapevano che ci sarebbero stati, è chiaro che l'idea che si discuteva anni fa era se verremo chiusi, verremo chiusi. Non si immaginavano pressioni, è sempre più difficile immaginare le censure parziali, tipo diventare grossi, avere un team di avvocati che ti dicono se è uscito questo articolo, dovremmo fare così, cosa si vota in corso di amministrazione, considerate che Wasabi, ovvero sì che Snarks, è giustissima la distinzione che ha fatto Snarks, che ha fatto Riccardo, non Wasabi che è un wallet open source che potete continuare ad usare, ma la società che fa da coordinatore default per Wasabi è una società che è investita da Venture Capitalist che ha un corso di amministrazione che quindi sicuramente ha creato una situazione abbastanza perversa all'interno. Considera che quando due giorni fa l'account ufficiale di Wasabi ha dato la prima, anzi, quando un account di Wasabi ha pubblicato le immagini di una piccola candela funeraria dicendo Wasabi potrebbe essere costretta a censurare degli UTXO particolari, sotto NoPare73 ha commentato con una lettera F che chi di voi abbia un po' visto i meme internet o avesse videogiocato, videogiochi, sa che il meme F paga rispetto al defunto che è detto dal creatore del progetto e mi sembra un messaggio molto molto chiaro. Non ha ufficializzato per ora nessuna lettera di licenziamento o altro, però ha scritto su Twitter F in risposta a questo. Tant'è che io pensavo fosse uno scherzo la prima volta che l'ho letto, proprio gli ho chiesto se ci stava pigliando per il sedere in anticipo rispetto al primo di aprile e invece è tutto quanto vero. Non sappiamo ancora, raggiungi un'altra cosa rispetto a quello che già ha utilizzato Riccardo. Ricapitoliamo un po' di cose perché le ha già lette tutte molto bene Riccardo ma ricapitoliamo. Uno, Wasabi come wallet se voi lo usate come wallet per ricevere e mandare se non fate l'operazione di CoinJoin e se lo usate come wallet open source per collegarlo al vostro hardware wallet e fare altre cose magari sfruttando il fatto che è particolarmente buono per collegarsi via Tor rispetto a per esempio Electrum che è un ottimo wallet ma si collega di default clearnet a dei nodi esterni il fatto che usa client-side filtering per i blocchi che è una cosa buona per la privacy rispetto al collegamento all'Electrum server se uno vuole usarlo come wallet senza fare CoinJoin Wasabi rimane il wallet che è sempre stato continuate a usarlo non è assolutamente da ieri non è successo niente non è cambiato niente se volete fare CoinJoin su Wasabi Wallet potete tranquillamente cercare su internet magari dopo possiamo mettere qualche link nella tua descrizione la procedura per cambiare il coordinatore sapete come ha detto Riccardo che ci sono i pro e i contro i contro sono che spenderete un po' di più mixerete un po' più lenti per avere lo stesso anonymity set nominale e quello anonymity set nominale sarà probabilmente più basso di qua reale perché rischerete di più delle interferenze dal punto di vista di civil attack perché avendo una liquidità più bassa sarà più facile attaccarla da parte di qualche spione quindi avrete un costo maggiore di tempo e soldi per un risultato inferiore ma potete farlo subito e potete provare il peggio che succede è che avete speso soldi e tempo per aver ottenuto molto meno privacy di quella che crediate non è che se usate un altro coordinatore perdete privacy al peggio non la guadagnate se non fate cose strane quindi se volete potete provare se usate Wasabi e non cambiate il coordinatore non è che da domani improvvisamente i mix che fate su Wasabi sono mix che non vi coprono più non è che da domani avete un anonymity set completamente falsato su Wasabi semplicemente voi sapete che Wasabi è costretta a fare questo tipo di attività e quindi il vostro UTXO che verrà registrato verrà analizzato per carità il vostro UTXO anche se lo registrate su qualsiasi altra transazione verrà analizzato da esattamente le stesse società la differenza è che Wasabi prenderà atto dei risultati di questa analisi che sono analisi peraltro che si basano su alcune euristiche farlocche che proprio cose come CoinJoin ma anche PayJoin CoinSwap Lightning sono tutte cose che vanno a distruggere queste euristiche quindi queste euristiche vuol dire supposizioni che ti aiutano a scoprire una cosa che poi eventualmente scoprirai e quindi non è che se oggi se domani voi usate Wasabi col coordinatore standard improvvisamente non avete più privacy ma sapete che se siete entrati state usando un coordinatore per alcuni per esempio per alcuni utenti bitcoin il dismettere l'utilizzo di Wasabi col coordinatore standard è una questione più di principio che di pratica cioè la tua privacy nel breve non cambia niente anzi magari censurando questa gente attirerà anche per un po' meno le attenzioni di qualche ente regolatorio ma a livello di principio stai pagando una stai pagando una società che è costretta a spiare i propri utenti al di fuori delle proprie relazioni e peraltro è che è costretta a farlo legittimando delle orlistiche farlocche che sono già state usate per mettere nei guai alcune persone per bene che non c'entrava niente o anche alcune persone che c'entravano ma che per esempio sono totalmente come dire beh allora quello che dicono adesso è che censureranno i criminali il problema dei criminali è che chiunque abbia donato dei soldi a dei camionisti pacifici che protestavano in Canada è ora considerato letteralmente un terrorista in Canada il problema dei criminali è che che adesso un cittadino russo che vive che non ha mai fatto il mal a mosca e vive in qualche paese è considerato praticamente la strega un terrorista un cittadino iraniano la stessa cosa quindi siamo un po' tutti criminali in qualche giurisdizione e in qualche epoca storica specifica basta aspettare che capiti a noi quindi è sicuramente un tipo di slippery slope una china scivolosa che all'inizio sono solo i criminali ma alla fine ci tocca sostanzialmente tutti una alla volta dal russo al camionista all'ebreo al novax al comunista a quello che volete aggiungo l'ultima cosa nota di colore diciamo l'ultimo degli articoli usciti qualche settimana fa che ha creato un po' di imbarazzo sul tema wasabi è un articolo che parla del fatto che quello che viene definito impropriamente adesso vi dico brevemente perché l'hacker della DAO di Ethereum di qualche anno fa pare che abbia preso questi iter usando la DAO e poi li abbia cambiati con bitcoin in maniera tracciabile anche perché poi su Ethereum la privacy è ancora nettamente inferiore che su bitcoin e poi questi bitcoin li abbia andati su wasabi per mixare la cosa incredibile è che per esempio la stampa chiama questo personaggio un hacker che ha rubato dei soldi questo non solo dimostra che il concetto di criminale è assolutamente evanescente cangiante cambia a seconda del momento ma a volte è anche basato su assoluta incompetenza tecnica per esempio questa giornalista lo chiama hacker quando in realtà quello che è successo è una società che crea questo smart contract sulla blockchain di Ethereum dice chiaramente nei termini di servizio nei toss sul sito dice code is law non interverremo mai qualsiasi cosa questo smart contract farà sarà il risultato della DAO allora questo individuo che non si sa chi sia arriva si comporta non come un hacker ma si comporta come un lawyer come un avvocato nel senso che legge bene il codice trova un lupo un cavillo lo usa senza fare nessun attacco informatico e si prende i soldi ed è stato poi casomai l'Ethereum Foundation che letteralmente ha organizzato un hacking per rubare soldi per riavvolgere la catena per violare i termini di servizio della DAO per riavere questi soldi quindi vabbè questo giusto per capirci che qualcuno potrebbe essere tentato di rubricare questa cosa come dire vabbè ma se io non sono un terrorista che vende dei MIG sotto banco non ho problemi no no è una è una china inclinata e scivolosa che si estende poco a poco a chiunque non vada genio al giornalista del momento o per ignoranza o per malafede mi permetterai di aggiungere una cosa se ti ricordi Giacomo ne avevamo parlato un sacco di mesi fa che ti dicevo ma secondo te cosa ne pensi di implementare una sorta di coordinatore cioè cosa ne pensi del concetto di blockchain analysis su un coordinatore di Wasabi e ne parlavamo e effettivamente tu mi dissi una cosa che poi è la realtà dei fatti che è quella che spaventa è che come fai a tracciare una linea cioè chi è criminale non puoi tracciare una linea specifica e net e fare una divisione perché dopo una cosa tira l'altra cioè alla fine fino a prova contraria tutte le UTX che tutti i bitcoin hanno sono comunque in parte sporche perché comunque un giro da qualche parte sporco l'hanno fatto quindi in realtà come fai a dire che tu che ti registri sei il criminale non puoi farlo che poi questo era proprio lo scopo di un un coin join quindi non cancellare comunque la storia dell'UTXO di come si è usato in precedenza nelle transazioni in precedenza ma creare plausible sustainability quindi effettivamente mettere tutti gli output sullo stesso piano e non permettere di collegare quale input corrisponde ad output e viceversa però ripeto ogni transazione bitcoin si riferisce a quella precedente e prima o poi comunque qualcosa di brutto possiamo trovarlo quindi io come faccio a dire che tu magari Giacomo sei il criminale magari ti ho inviato io quella frazione di bitcoin che è sporca adesso sei tu sporco capisci? e no è sbagliato o allo stesso tempo Giacomo potrebbe essersi auto inviato una transazione sporca e dire ma non è mia c'è ben avviato qualcuno quindi alla fine come dice Giacomo tutto il concetto di blockchain analysis è una grandissima puttanata scusatemi il termine perché si basa su supposizioni che hanno tutto tranne un metodo scientifico delle prove concrete sì per distinguere visto che abbiamo parlato appunto del come faccio a dire che uno è criminale questo per distinguere il mio discorso che era anche più socio politico da questo di Riccardo che è più tecnico sono proprio tre livelli il primo livello se vogliamo più politico chi è a dire che oggi il camionista canadese è un criminale oppure no quindi il concetto di criminale che è sostesso evanescente però non può dire vabbè sarà pure evanescente ma quando la polizia deve andare a cercare qualcuno deve pur definire qual è un criminale quindi vabbè facciamo finta che questo non sia un problema lo è perché appunto Giuliana Assange aveva fatto crimine adesso un giornalista ma vabbè facciamo finta che è oggettivo che sia un criminale che la società attuale non criminalizzi i comportamenti normali o addirittura virtuosi cosa che purtroppo non è due come facciamo a definire che se qualcuno è criminale o meno spetti a suoi fornitori di servizio o prodotti manipolare i servizi e i prodotti in modo tale da rendere impossibile per i criminali usarli già questa è un'altra follia cioè se io produco scarpe e qualcuno entra da me e compra scarpe se io ho un ristorante qualcuno entra e mangia una pasta asciutta ma è mio compito le tasse per pagare la polizia gli ispettori e i giudici non vanno a me il ristoratore o il calzolaio l'idea che il produttore di beni e servizi debba essere lui a fare indagini di polizia sui suoi clienti è un'idea che al di là della definizione di crimine è assolutamente fuori testa e poi c'è il terzo tipo di ambiguità che è quella che citava Riccardo che è più tecnica è che anche facendo finta che se abbiamo una versione oggettiva di che cos'è criminale e cosa non lo è e sappiamo esattamente che ci rientrino solo cattive persone assassini omicidi e stupratori una volta che abbiamo definito questo una volta che sappiamo che è compito di una società che gestisce un server che scambia messaggi andare a spiare i suoi clienti per definire se sono assassini o meno che già è del tutto assurdo ancora una volta come dice Riccardo di per sé la blockchain di bitcoin non permette in qualunque transazione la blockchain di bitcoin va a distruggere degli UTXO e a crearne di nuovi l'unico link che si ha è probabilistico facendo assunzioni sul comportamento delle persone cioè se io vedo un UTXO che viene bruciato e un altro che viene creato io posso assumere o se l'è mandato da solo oppure ha pagato qualcuno senza darsi il resto quindi la cifra tonda questo è un po' strano allora facciamo che se l'è pagato da solo ma non è assolutamente detto non è scientifico è un'assunzione a caso magari invece ha creato un lightning channel in cui ha messo tutta la cifra ma di cui ha dato solo una parte quindi con l'esigenza di lightning una sola transazione non sappiamo se è la creazione un canale il passaggio a se stesso il passaggio ad un altro o qualunque altro tipo di cose può essere cose ancora più complicate tipo un peg-in dentro una side chain dentro una state chain può essere un coin swap in cui sì io ho dato i soldi a quello lì ma in realtà i soldi sono andati da un'altra parte completamente non collegata può essere un sacco di cose e quindi se io allora se Wasabi blocca uno TXO perché appartiene a Hitler il piccolo problema è che quello TXO viene spesa ne genera un'altra e tu non sai più se quell'altra persona è Hitler o è qualcuno che ha un canale a cui ha fatto una sub-manage swap con un collega di un collega di un collega di un collega di un contatto di un nodo di un pari di Hitler quindi non sai assolutamente più niente e purtroppo questa idea di usare queste oristiche queste oristiche non voglio dire che siano state sempre inefficaci sono oristiche sociali non scientifiche che si basano sull'assunto di alcuni comportamenti per esempio tutti gli utenti usano Bitcoin solo per pagare altri utenti questi pagamenti sono sempre pagamenti in cui l'utente raccoglie tutti i propri TXO negli input solo i propri e in cui gli output sono un pagamento e un resto l'utente riusa gli indirizzi l'utente manda sempre da un wallet con lo stesso tipo di script eccetera eccetera l'utente non usa mai Lightning non usa mai CoinJoin non usa mai CoinSwap non usa mai PayJoin se assumiamo queste cose che sono vere solo statisticamente perché la gente ancora ha usato Bitcoin senza capire l'importanza della privacy allora queste oristiche assumono un certo livello di attendibilità rispetto alla realtà ma pian piano che la tecnologia evolve queste oristiche vogliono dire sempre meno e come diceva Riccardo se tu definisci che se la tua UTXO è incriminata non deve toccare la mia perché io posso dirmi pulito mi devi dire quanti step ci stanno in mezzo se ne basta uno allora uscire da qualsiasi break list è facile basta fare una transazione a me stesso e sono fuori se invece me ne conti 100 allora tutti i Bitcoin sono sporchi e quelli che non sono sporchi li possiamo sporcare noi con un semplice attacco dust semplicissimo tu prendi i più grossi elenchi di exchange al mondo compresi quelli normati come Coinbase li vai a sparare da fare un po' di Coinjoin spari gli alpo dei Coinjoin sopra loro gli danno una bella donazione questi qui non si accorgono di niente quella prossima volta vanno a consolidare gli indirizzi e vanno a sporcare tutto il loro tezzo facilissimo da fare non si fa solo perché per ora è inutile ma è facilissimo da fare tecnicamente beh si è fatto anche la mining pool quella americana di Mara Mara pool quando hanno donato gli iraniani al wallet della pool stessa esattamente si poi vedi alla fine le aziende che fanno blockchain analysis alla fine fanno un processo di intenzioni nel senso non vanno a giudicarti per quello che fai ma quello che potresti aver fatto o quello che potresti fare cioè non vuol dire nulla non vuol dire assolutamente nulla però ci riterà a dire una cosa che secondo me potrebbe essere interessante tu hai accennato a CoinSwap CoinSwap forse è ancora più rischioso di fare un Coinjoin perché se un Coinjoin comunque chiunque può vederlo e può verificare effettivamente che sia una trattazione di Coinjoin o può supporlo nel caso di un CoinSwap effettivamente non c'è nessuna prova che sia però per semplificare dei Bitcoin tra due persone diverse e io magari utente che ho dei Bitcoin tra virgolette puliti li scambio con una persona che magari mi dà dei Bitcoin potenzialmente sporchi e quindi anche là questa cosa qua va a nuocere me perché qualcuno dice che io sono diventato un criminale semplicemente perché ho ricevuto in modo trustless atomico dei Bitcoin che prima appartenevano ad un'altra persona e io come faccio a dimostrare o come faccio semplicemente ad evitare ciò non posso farlo e qua appunto si è creato tutto il problema della fungibilità del tracciamento queste cose qua poi evitarlo giustamente giustamente evitarlo non puoi perché se cominci a evitarlo vuol dire che al tuo full node ci deve attaccare delle altre regole che sono accetto solo transazioni se chi me le manda è dentro una lista di bravi ragazzi e quindi fai un fork di Bitcoin non è più Bitcoin è un'altra cosa ma per esempio dimostrare che una cosa era un coin swap puoi farlo perché ciò che rende trustless questa transazione è uno scambio di firme con la controparte cioè quando io ti faccio un coin swap con te noi dobbiamo scambiarci delle firme off chain per essere trust sia se usiamo Lightning Submarine sia se usiamo il tool on chain di Chris Belcher quindi di Chris Belcher quindi in realtà hai delle cose da mostrare è chiaro potresti aver coswopato con te stesso appunto e quindi torniamo al punto principale non puoi dimostrarlo cioè puoi puoi cercare di dimostrarlo ma nessuno ti crederà perché fino a prova contraria tu sei criminale no? se tu usi servizi ma questo vale anche se non sei coswop per esempio io ti dico nel senso io so che tu hai questo indirizzo questo indirizzo è pulito nel senso che le mie oristiche a caso non hanno trovato connessioni con cose che cerco dimostrami che non hai anche quest'altro indirizzo non puoi dimostrare sì sì non puoi e poi vedi adesso bagniamo coin join bagniamo coin swap sì ma vedi o cerchiamo di limitare tutte queste tecnologie perché perché chi usa queste cose qua è un criminale categoria come criminale sì ma allora che cazzo facciamo chiudiamo lightning chiudiamo liquid chiudiamo gli exchange cioè fino a prova contraria gli exchange sono i mixer più grandi che esistono in questo mondo qua allora chiudiamo tutto no non puoi farlo serve di qua il problema è che ancora non si è compresa si puoi significa banare bitcoin puoi banare bitcoin perché dici con paypal non c'è privacy finanziaria con bitcoin c'è e siccome mi avevano raccontato che non c'era e quindi pensavo di lasciarlo andare perché tanto mi avevano detto che non c'era mi accorgo che con certi strumenti c'è prima provo a banare gli strumenti quando non riesco banno direttamente bitcoin piccola sorpresa che rimane in riservo bitcoin è stato disegnato esattamente per resistere a un caso di ban statale quindi sarà più brutto per noi fare live con la faccia davanti dovremmo fare un sacco di perifrasi tipo mi ha detto mio cugino che forse conosce uno che ha usato bitcoin e che lui usa join market io ovviamente no sono perifrasi che già facciamo per scherzo dovremmo finire a farle davvero ma si finisce semplicemente così non puoi bannare una cosa che serve alla gente non potevi bannare il liquore negli Stati Uniti che non serviva alla gente se non a fargli del male al fegato figurati si puoi bannare uno strumento di scambio di valore digitale faccio una domanda a Riccardo dato che ho sentito questa domanda ripetuta più volte le persone che hanno eseguito coin join su Wasabi Wallet in passato possono essere tranquille possono avere qualche problema in realtà ripeto allora questa cosa qua non è retroattiva la collaborazione con queste entità che fanno blockchain analysis con i coordinatori di DCK Smacks non è che è retroattiva da ora in poi avverrà ma comunque ricordiamoci che la blockchain parla è trasparente se avete fatto un coin join state sicuri che un'azienda di blockchain analysis lo sa e vi ha tracciati cioè non cambia essenzialmente nulla semplicemente d'ora in poi il coordinatore deciderà quali UTX o accettare in fase di registrazione degli input o meno ma siete già tracciati cioè tenete a mente che ogni volta che fate una transazione inviate e ricevete bitcoin questa cosa viene scritta e lì rimane per sempre e state sicuri che ci sono centinaia di entità nel mondo singoli aziende che fanno dell'analisi della blockchain un vero e proprio lavoro che estraggono dati per poi utilizzarli per costruire servizi prodotti per minacciare per per seguirvi nel senso sulla blockchain di bitcoin tutto è pubblico è per questo che è importante imparare dare peso a questi concetti che io e Giacomo ci sforziamo di comunicare relativi alla privacy perché il concetto di privacy su bitcoin è bellissimo perché siamo tutelati da questi pseudonimi questi indirizzi che in qualche modo comunque appartengono a noi e ci caratterizzano in questa blockchain però è tutto pubblico e ciò significa che se noi facciamo un passo falso potenzialmente permettiamo a tutti i partecipanti dell'area adesso lo semplifico di tracciare tutte le nostre transazioni effettuate in precedenza e tutte quelle che andremo a fare in futuro quindi è importante ripeto cercare di transare su bitcoin utilizzando comunque strumenti che tutelano la nostra privacy può essere Lightning Network che si è usato nel modo corretto perché anche là c'è un pro e contro può essere Wasabi che si è usato in modo corretto già il market nel senso nessuno strumento è perfetto e come dico sempre questa cosa qua è proprio una cosa che dico sempre e che vorrei dire anche in questo video qua la privacy come la sicurezza non è un acquisto ma è un processo non c'è niente che voi acquistate che utilizzate che vi da massima sicurezza e privacy ma è uno studio costante è un aggiornamento è un capire come funziona bitcoin come funziona blockchain come funzionano determinati strumenti e come andrebbero utilizzati e appunto molte persone vedevano un pochino Wasabi come il modo di default di avere privacy come se fosse una cosa fantastica e magica che li rendeva anonimi questo purtroppo non è di base la verità totale molti però si vedono si sentono un pochino persi che sanno che Wasabi diciamo più o meno da ora traccerà i coin join cosa vi sentite di consigliare come alternative esistono insomma esiste we and pool esiste join market cosa ne pensate di queste cose di sentire qual è secondo voi al momento delle buone alternative da utilizzare al posto di Wasabi del comisogno di Wasabi nello specifico se Giacomo mi permette ruberei un minuto del tempo per spiegare il mio punto di vista magari su la questione Wasabi e privacy magari dopo lascio Giacomo parlare di join market perché Wasabi è un wallet perfetto per gli neofiti perché permette di avere il massimo della privacy a prescindere dalle competenze tecniche o davvero un full nodo o meno perché perché ci sono una serie di tecnologie e features dietro che danno privacy anche lato network come ha detto già come il discorso dei filtri come per esempio anziché condividere gli indirizzi del mio wallet io vado a richiedere dei blocchi che potrebbero contenere una trassazione con uno specifico indirizzo vado a chiedere anche altri blocchi falsi positivi per confondere le oristiche di nodi che mi vogliono tracciare vado a chiedere questi nodi con un'identità fittizia di tor sempre nuova non vado a fare il broadcast della mia trassazione con il mio nodo ma utilizzando nodi casuali quindi insomma ci sono delle features lato network che aiutano l'utente a prescindere dalle competenze tecniche che ha ovvio che la cosa più importante che un utente dovrebbe fare non è quella di andare a richiedere queste informazioni all'esterno ma di averle direttamente in casa quindi il consiglio che si danno a tutti gli utenti è quello di cominciare a vedere bitcoin come era stato pensato ovvero cercate di scaricarvi la blockchain cercate di fare tutto in casa cercate di richiedere sempre meno informazioni all'esterno perché una volta che voi andate a richiedere delle informazioni e create una connessione all'esterno qualcosa comunque condividete il vostro ip i vostri indirizzi che ne so insomma una serie di informazioni e metadati avere tutto in casa invece è diverso capite quindi il consiglio qual è scarichiamo questo benedetto bitcoin core o insomma altre referenze di full node avviamole cerchiamo di partecipare nel network di bitcoin come dovremo partecipare quindi essendo appunto non dipendendo da nessuno se non da noi stessi dal nostro nodo e poi là possiamo aggiungerci altri strumenti come non so gemmarket che appunto richiede un full node come wasabi che richiede o meno un full node come electrum che richiede un full node un full node è anche electrum personal server o electris o altro perché alla fine vedete ogni volta che voi richiedete informazioni a prescindere che lo fate in modo più professionalmente possibile o meno comunque andate a comunicare all'esterno qualcosa se invece parliamo di privacy lato blockchain io personalmente non consiglio non è che sconsiglio ma non consiglio di utilizzare implementazioni diverse se non join market che a mio parere è l'unica vera implementazione che ha senso di essere utilizzata quindi tutto il discorso di Whirlpool Samurai eccetera non lo consiglierei non perché secondo me a prescindere quello che abbia fatto il team in passato comunque ognuno fa errori eccetera non siccome perché sono comunque delle implementazioni sbagliate o altre ma perché la maggior parte di utenti che utilizzano questo software mobile non hanno un full node e in qualche modo il coordinatore potrebbe comunque prescindere se voi avviate un full node dojo eccetera eccetera o meno in qualche modo potrebbe insomma tracciarvi se fate un coin join con appunto Samurai Wallet dojo e tutto Whirlpool e tutto quello che ne segue quindi io consiglierei join market non è che sconsiglio Samurai consiglio join market non è che voglio fare pubblicità negativa ad altri team o altri progetti perché alla fine tutto quello che riguarda la privacy in questo mondo per me è il benvenuto cioè se la gente lavora per migliorare questa problematica che è enorme io sono solo felice e se vuoi parlare Giacomo di join market che so che te sei un grande fan ti lascio sì sì io in realtà appunto siccome il buon vecchio Loras Naum nel lontano 1900 no nel 2016 mi aveva chiesto di lavoravo con lui a Green Address mi aveva chiesto 2015 forse mi aveva chiesto di guardare le varie implementazioni coin join che stavano cominciando a girare per decidere se introdurne una su Green Address ai tempi che adesso è Blocks & Green io ne avevo guardate e ho cominciato ad usare Gioin Market già a inizio 2016 quindi sono lo uso a tanto tempo sono abbastanza affezionato sia come taker quando faccio transazioni sia come maker anche se recentemente con Fidelity Bond di cui parlava Riccardo sta diventando un attimino più complicato non ho ancora non vengo scelto non vengo scelto da settimane come taker quindi è un attimino più complicato ma Gioin Market è decisamente la mia scelta preferita adesso entro un po' più nel dettaglio come diceva Riccardo Gioin Market è probabilmente la scelta migliore se volete fare se volete fare coin join ma ha una serie di complessità la prima complessità è che dovete avere un full node dovete avere core sincronizzato altrimenti Gioin Market non lo usate la seconda complessità è che installarlo comunque anche se c'è una tutorial online non è come installare Wasabi su Windows installare Gioin Market vuol dire fare una serie di cose tra cui far partire riga di comando una piccola virtual machine eccetera che sono un po' confuse per gli utenti la terza cosa è che Gioin Market come funzionamento è molto complicato perché ha delle dinamiche diverse essendo un mercato decentralizzato di liquidità in cui bisogna connettersi a una network di peer per chiedere perché come vi dicevo prima in Gioin Market voi siete il coordinatore non gli altri quando voi chiedete della privacy voi scegliete da una pool di persone che si sono date disponibili a mettere la propria liquidità all'interno di un coin join voi scegliete l'unità l'amount che volete mixare quindi fate un amount fisso e dite tu 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 e tu mi date un input uguale al mio amount e un output uguale al mio amount da mettere insieme in questa transazione in cui non dobbiamo fidarci a vicenda queste persone rispondono e dicono sì ok 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 e viene pubblicata una transazione dove io so chi ho scelto ma loro non sanno gli altri che sono stati scelti e loro non sanno soprattutto chi sono io quindi io come taker ho privacy io pago questa liquidità e loro invece incassano o incassano addirittura delle fee o i più generosi non incassano quasi niente ma si fanno pagare le fee di mining questo perché perché è un maker quindi uno che dà liquidità all'inizio nel primo round di coin join rispetto al mondo guadagna privacy ma rispetto al taker perde privacy perché il taker sa cioè non guadagna niente perché il taker sa esattamente chi è lui l'ha scelto l'ha scelto lui l'ha scelto il taker però quando entra in tanti round prima con un taker poi con un altro taker poi con un altro taker ecco che la sua anonimato comincia a crescere senza aver pagato però quindi c'è un discorso diverso di incettivi per cui far andare questo meccanismo è interessante anche per avere una sorta di piccolissima rendita sui tuoi bitcoin però appunto installare G-Market è complicato farlo partire è complicato usarlo analogico è complicata e fare il maker con un certo successo è decisamente complicato ci sono delle novità che rendono questa complessità un attimino inferiore già da molti mesi su Raspi Blitz peraltro qui faccio una parentesi mi collego alla frase di Riccardo di prima su G-Market G-Market è più sensibile ai civil attack rispetto a Wasabi senza dubbio ma e può darsi che ci sia un civil attack in corso in maniera importante negli ultimi mesi ma non dimentichiamo che c'è anche la possibile magari parziale spiegazione del fatto che oggi con molti dei nodi nodi chiavi in mano quelli che sta lì sono tutti pronti ti trovi con anche la possibilità di far partire già una piccolo script di G-Market che io per esempio ho aiutato alcuni clienti a far partire non avrei mai fatto con lo script manuale da lanciare su Python in console ma con questi strumenti che si chiamano Join Inbox che è un'interfaccia praticamente su Raspi Blitz abbastanza grafica abbastanza gestibile anche per chi non sia veramente smanettone con righe di comando e soprattutto Jam che è l'interfaccia nuova via web sostanzialmente l'interfaccia grafica totale che stanno implementando adesso cominciano ad esserci molte più persone per esempio JM è collegata con Umbre per esempio forse addirittura con MyNode la Embassy ci stanno lavorando quindi sta diventando confermo che è inclusa anche MyNode perfetto non so ancora se la Embassy di StartNineLabs ce l'ha già o no ma anche loro sicuramente ci lavoreranno presto quindi chiaramente sta diventando sempre più facile quindi molti di questi maker sono anche dei maker che quando era molto difficile usare CoinJoin come maker non lo facevano adesso che è più facile comincia a esserci molto più making amatoriale anche per piccole cifre alcuni questi saranno accessibili delle cene analysis companies altri saranno veri utenti più piccolini che hanno cominciato un po' a pucciare i piedi nell'acqua di questa cosa qui quindi in teoria usare JoinMarket secondo me JoinMarket però ha certe complessità sia da installare che da usare che da usare correttamente come maker allora il second best è secondo me usare qualcosa di meno ideale ma di più facile come per esempio Wasabi che rimane appunto come dicevamo prima rimane utilizzabile ad ora se non per una questione di principio che è un po' irritante cioè sapere che devono fare questa cosa peraltro la questione di principio secondo me non è annullata ma è mitigata dal fatto che loro potevano fare questa cosa senza dirlo a nessuno e in assenza di una frequentissima attività di censura tipo che ogni round censura qualcuno allora qualcuno se ne accorge ma in assenza di questo e in assenza chiaramente di un developer interno che si incavola e lo va a dire a tutti quanti cosa che secondo me sarebbe successa potevano anche far finta di niente e cominciare a censurare gente per due anni prendendosi la gloria di Wasabi 2 che stava per uscire e facendo finta di niente quindi da un certo punto di vista dal punto di vista etico cioè a dire che stanno facendo la compagnia ZKZ Snacks sta facendo un attacco alla privacy degli utenti ma c'è anche da dire che l'hanno detto e potevano non dire niente non sappiamo se altri stiamo facendo attacchi paragonabili senza dire niente quindi attenzione anche al tema c'è il tema complesso della me non sappiamo quindi John Mark è complicato Wasabi è semplice Samurai io non sono la persona più unbiased perché detesto assolutamente il team che ci sta dietro litighiamo in continuazione ci becchiamo su internet e quindi non c'è simpatia reciproca però cercando di stare il più oggettivo possibile Samurai può essere usato con un buon livello di privacy o meglio Whirlpool che è il prodotto coinjoin blinded Xiaomi and coinjoin di Samurai può essere usato in maniera buona però non in maniera di default cioè se voi prendete il cellulare ci installate Samurai e cominciate a fare Whirlpool è secondo me una delle peggiori cose che potete fare forse è meglio di non fare coinjoin e di lasciare i vostri link finanziari in vista a tutti ma li state lasciando in chiara vista rispetto al server di Samurai perché il server di Whirlpool il server di Samurai da una parte usa queste queste magie critografiche inventate da Noparas da Adam Fisher per mascherare che cosa state facendo nel mix ma dall'altra legge perfettamente con un altro server che loro ti promettono che non connetteranno mai leggono esattamente tutte le vostre richieste di exfab dal vostro cellulare non solo se non fate partire Tor su Samurai cosa come che inizio non succedeva leggono le vostre richieste di coin anche i vostri IP sul cellulare e connettono tutto se vogliono quando vogliono senza che noi possiamo saperlo alle informazioni di CoinJoin quindi fare CoinJoin Xiaomi hanno blindato su Whirlpool da Samurai App è problematico non solo Samurai App è anche un'applicazione la cui versione distribuita su App Store Android non è ha fallito la riproduzione deterministica che cosa vuol dire che voi per ogni programma open source potete fare due cose una cosa vi scaricate il codice sorgente che magari voi non siete in grado di leggerlo ma che sta su GitHub quindi se c'è qualche porcheria potete fidarvi di fatto che qualcuno che quanto meno hanno dovuto pubblicarla quindi qualcuno avrà vista vi scaricate il codice e compilate vuol dire che dovete gestire in quel caso Java dovete compilare il codice eccetera eccetera è un po' complicato non lo fanno tutti non lo fa quasi nessuno una volta compilato lo passate su Android e ve lo mettete su Android e usate Samurai nel modo che vi dicevo invece se andate sull'App Store l'unica alternativa che c'è a compilare è che che il team di sviluppo l'abbia compilato per voi ve lo dia già compilato ma ve lo dia firmato dicendo siamo proprio noi che lo abbiamo fatto e ve lo dia riproducibile cioè vi dice esattamente come dal codice sorgente arrivate allo stesso binario uguale bit per bit cosa meno possono verificare che quello che va messo dentro il binario compilato è veramente quello che vi diciamo mettere dei soldi importanti in un wallet che non è riproducibile non è una buona idea ora attenzione Wasabi non è certamente riproducibile nel senso che le persone che conosco che sono praticamente che lo fanno normalmente che sono Maxwell Novak Lio di Mycelium nessuno ha ancora provato a fare una cosa deterministica riproducibile riproducibile di Wasabi non il team di Wasabi ma Samurai App Android è non riproducibile nel senso che se prova a riprodurre quei parametri dati falliscono c'è stato un dibattito a riguardo ma di fatto è non riproducibile questo secondo me non è una buona prassi mettere sul vostro cellulare mettere dei soldi in un'applicazione che potrebbe anche avere dentro roba che legge le vostre chiave private voi non potete saperlo non c'è modo in cui nessuno potrebbe saperlo domani team di Samurai può mettere nella versione Android quello che vuole letteralmente non solo a livello di privacy ma anche a livello di sicurezza quindi secondo me l'app su Samurai è un app Samurai su Android sia dal punto di vista di utilizzo dei loro server sia dal punto di vista di non riproducibilità e problematica certo se voi volete prendere il codice sorgente di Samurai metterlo su computer compilare con Java spostarlo su FDroid metterlo su cellulare a questo punto installare magari compilandolo Dojo che mettete insieme al vostro Bitcoin Core sul vostro server a casa collegare il vostro Samurai a Dojo a questo punto potete usare Whirlpool veramente come un Xiaomi un coin join quindi come Wasabi allo stesso livello di sicurezza va bene però a questo punto non è più un tema di user friendliness non è più un tema di facilità se avete compilato installato Dojo compilato installato Samurai per cellulare collegato Dojo a Core e collegato Samurai a Dojo complimenti siete stati bravi ma potevate quasi farvi join market senza grosse difficoltà perché vuol dire che siete abbastanza in gamba invece join market per esempio è deterministicamente riproducibile Wasabi non sappiamo se lo sia perché ne sono ancora provato ma mi dicevano di provarci io ma non ci ho avuto voglia ma no non ci sono quantomeno red flag a riguardo inoltre compilare Wasabi C Sharp su Windows è molto più facile che compilarlo in Java e passarlo su FDroid quindi c'è molta più gente che conosco che ha compilato Wasabi di sicuro di quanta gente che conosco che ha compilato Samurai quindi ci sono tutte queste cose parallele detto questo questo è per usare Samurai invece usare Whirlpool che è la pool di Samurai è una cosa completamente diversa perché esiste un altro wallet un ottimo wallet molto nuovo anche quello di cui ancora nessuno che io so che io sappia ha provato la riproduzione deterministica ma ci stanno lavorando in Java pure quello però per computer che si chiama Sparrow e con questo Sparrow potete usare Whirlpool così come se usasse Samurai ma da Sparrow qual è il vantaggio? che Sparrow non richiede le vostre XPUB al server di Samurai mai si collega al vostro full node oppure a un full node di società che non c'entra niente con Samurai via Tor o via altri mezzi ci sono collegamenti locali collegamenti remote eccetera eccetera quindi se volete proprio usare Whirlpool come pool di mixing potete usare Whirlpool quali sono le differenze fondamentali? una è il business model cioè Whirlpool praticamente sono tre business model molto diversi business model di 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 joint market la società non esiste non ci fa un euro non c'è nessuno non c'è una società voi se chiedete ora un coin join con privacy pagate se invece mettete dei soldi a disposizione degli altri con un server connesso per dare equità agli altri prendete soldi tanti pochi dipende un po' da quanto venite scelti e da quanto chiedete questo è il modello quindi abbastanza lineare in Wasabi invece voi per ogni volta che mixate pagate ogni volta ogni mix voi pagate ogni mix voi pagate e questo vi disincentiva un po' a pagare inoltre come diceva Riccardo pagate in funzione di quanti compagni di mixing avete e questo incentiva a Wasabi a darvi dei finti compagni di mixing se vuole per alzare i prezzi per dare una finta a limiti set eccetera eccetera quindi un po' problematico invece samurai wear pool o sparrow con wear pool funziona così voi fate una prima transazione che prepara tutto quanto questa transazione la pagate al server di samurai a wear pool senzalmente gli date una fee ma dopo questa prima transazione finché non tirate via i soldi da quella pool verrete sempre ripescati e in samurai voi non pagate a quantità di anonymity set l'anonymity set locale è sempre 5 siete sempre in 5 nella transazione 5 input 5 output però questi 5 sono in genere più o meno 3 nuovi che entrano a volte 4 e 2 vecchi che vengono ripescati a seconda di quanto avete pagato la prima volta aumenta la probabilità che vi ripeschi nel futuro questo fa sì che continua ad aumentare ci sono due discorsi di backward facing anonymity set e forward facing anonymity set comunque diciamo che ha un sistema ingegnoso quello di quello di wear pool loro mi stanno veramente sui cabasisi ma il sistema è ingegnoso oggettivamente e l'altra cosa a dire in favore di wear pool e di sparro è la maggiore facilità di non fare cavolate dopo aver mixato cioè in wasabi voi fate i vostri mixing ma alcune persone dopo che hanno finito di mixare prendono tutti i propri UTXO belli mixati e li mandano tutti insieme in una sola transazione a un solo wallet ora wasabi ha delle indicazioni di colore per evitarvi di fare queste cose ci sono indicazioni grafiche ma non sono fortissime cioè utenti che riescono a spararsi sui piedi in wasabi io ne ho visti non solo se per esempio installi due istanze di wasabi con lo stesso seed cosa che la guida ti dice di non fare ma c'è gente che comunque lo fa finisci per riusare certi indirizzi e questo può compromettere il tuo mixing se riusi i stessi indirizzi sostanzialmente quindi puoi spararti sui piedi gli incasi abbastanza complessi ma puoi invece Whirlpool per esempio dentro Sparrow ha una interfaccia chiarissima dal punto di vista di separazione tra premix post mix e resto tossico come si dice il resto tossico sono quelle in un coin join tutti gli amount devono essere uguali altrimenti si può fare correlazione degli amount ma chiaramente se tutte le persone mettono un 0.5 ma tu avevi un TXO di 0.7 rimane al 0.1 di resto che non puoi mettere dentro nessun TXO e questo è un resto tossico su Wasabi mixare i resti tossici con il mixato non è non è devi praticamente devi non seguire bene le istruzioni ma lo puoi fare su su Sparrow è difficilissimo farlo perché veramente sono separati graficamente molto molto bene quindi protegge un po' di più anche da quello join market in realtà è ancora meglio nel senso che in join market non esistono resti tossici perché consumi in join market consumi sempre tutto tu come taker sei tu cioè esistono resti tossici per gli altri ma tu come taker sei sempre tu che scegli la denominazione e consumi il tuo TXO completamente quindi non hai non è che finisci di mixare e ti rimane qualcosa che rimixi e lasci indietro chiaramente se mixi solo una parte del tuo TXO dentro il join market è chiaramente dei problemi e la divisione in pockets comunque è abbastanza buona dal punto di vista di evitarti errore diciamo che join market è difficile da usare e quindi è anche difficile da usare male quindi su questo vince vince clamorosamente sono tre cose con tre trade-off diversi io mi sentirei a differenza di Riccardo che è stato più diplomatico di sconsigliare samurai su android e se volete usare se volete veramente dare soldi ai tizi di samurai al di là di tutte le polemiche che ci sono dietro vi consiglio Sparrow con Whirlpool che è molto molto più easy ho cercato di non essere troppo di parte per una volta perché se no dopo l'arp capisci ti arrivo al lato e ti attaccano in ogni modo quindi non ho veramente voglia chi di voi ha visto le chat sa che non serve parlare male dei samurai basta solo non parlare malissimo di altri coin join e loro cominciano ad accusarvi di essere le più peggiori nefandezze vabbè sono personaggi un po' così un po' caratteristici sì non ho mai visto Giacomo così diplomatico è stato bravissimo e quindi possiamo dire riassumendo che possiamo definire l'utilizzo di Whirlpool su Sparrow a livello di blockchain come privacy comunque buono magari non eticamente bellissimo possiamo assumerlo in questo modo sì come buono ci farei solo una tara ovvero siccome su Whirlpool ci stanno anche tutti quelli che usano samurai default su Android e siccome quelli non hanno privacy rispetto a server di samurai quelli vanno a ridurti da un limit set cioè se c'è una round di Whirlpool in cui tu sei lì con Sparrow ma gli altri 4 arrivano tutti a samurai i server samurai sa benissimo chi sono gli altri 4 e quindi quel round è stato inutile per te però il modello di samurai di Whirlpool che ti permette di rifare tanti round fa sì che se continui a farlo devi sempre assumere di avere un po' meno un limit set rispetto a quello che ti dicono però siccome a differenza di Wasabi non paghi per un limit set è un peccato veniale nel senso se fate solo un giro di Whirlpool state attenti perché tutti gli utenti samurai vi rovinano l'un limit set ma se fate tanti giri non li pagate cominciate a essere cioè avete una non set anche se è minore di quello inizialmente dichiarato per via di questo problema dell'app di default poi scusa ti interrompo la cosa si potrebbe risolvere in modo semplicissimo cioè implementando una pool dojo only cioè se se hai dojo allora puoi entrare in questa pool non lo fanno ed è strana come cosa mi ricordo anni fa i casi ma quando è che arrivano le pool dojo only a presto 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 ma arrivate perché? perché hanno poco volume o hanno paura di dividere la liquidità mi sa che non c'è quello anche perché sull'implementazione che ha meno liquidità ha un ordine di grandezza in meno di Wasabi che ha un ordine di grandezza in meno di Geomarket quindi al fine è quello però danneggiano la limiti set infatti non è molto non è molto accettabile come risposta ok avrei un'ultima domanda da fare a testa quindi stringiamo un pochino dato che comunque cominciamo a derivare lunghi sui tempi della live e volevo chiedere a Riccardo secondo te questo diciamo queste pressioni che su Wasabi sicuramente erano già presenti magari da un po' di tempo sono soltanto l'inizio verso una sorta di repressione verso il mondo bitcoin i wallet non custodial open source o è soltanto un fatto isolato che è successo? ma io quello che mi aspetto in un prossimo futuro è che lo vediamo con i nostri occhi spero che Giacomo mi confermi questa cosa però sono curioso anche sul suo punto di vista secondo me bitcoin esisterà e non potrà essere fermato ovviamente però sarà spaccato il mio mondo di versi completamente opposti divisi tra di loro e che non potranno comunicare tra di loro ci sarà il mondo che vuoi sì il mondo regolato dove tutti dovranno seguire delle regole specifiche e potranno transare secondo le regole di determinati regolatori giuridizioni e altro poi ci sarà il mondo cypherpunk il mondo di bitcoin come è nato e come è stato pensato di essere utilizzato che seguirà le proprie regole che sono a mio parere quelle giuste ovvero la libertà di fare quel cazzo che vuoi purtroppo questi due mondi qua a volte come abbiamo visto nel caso di Wasabi come vedremo come abbiamo visto in altri in altri casi e come vedremo ancora di più in futuro ci comunicheranno sempre meno perché ci saranno delle frizioni molto molto grosse che comunque ci saranno molte pressioni non solo alle aziende che coprono in questo settore ma anche agli utenti stessi quindi io mi immagino che questo qua non è che è l'inizio perché questa cosa qua è iniziata da mo nel senso che è sempre esistita però siccome bitcoin sta diventando comunque uno strumento finanziario sempre più conosciuto sempre più utilizzato non solo da criminali perché sembra quasi che adesso bitcoin sia utilizzato solo da criminali ma anche da gente normalissima ecco che allora viene cioè incomincia a essere preso seriamente in considerazione anche da regolatori che purtroppo anziché studiarlo anziché capirlo e anziché comprendere l'importanza socio-politico economica vanno a creare una serie di regole che rallentano l'innovazione stessa e soprattutto non permettono poi comunque di utilizzare questo nuovo strumento liberatorio nel modo in cui è stato pensato e quindi ripeto secondo me ci saranno due mondi che vuoi sì regolato e unhosted non custode chiamano come vogliamo non regolato che pian piano nel tempo comunicheranno tra di loro sempre meno questa è un po' la mia visione però sono curioso di sentire anche il parere di Giacomo io condivido assolutamente secondo me si creerà questa frattura l'unica cosa che secondo me non sarà una frattura simmetrica cioè il primo di questi mondi sostanzialmente non ha senso e se anche il mercato si accorgerà dopo un po' di anni che non ha senso credo che sarà inevitabile che se ne accorgerà perché perché sostanzialmente se finisci in un mondo in cui usi bitcoin soltanto per fare gli stessi pagamenti che potresti fare con la moneta fiat quindi con paypal e quindi non puoi più donare camionisti perché non puoi non puoi più pagare un russo perché non puoi non puoi più donare a wiki a wiki leaks perché non puoi non puoi fare praticamente niente non puoi fare un pagamento in iran se devi comprare dello zafferano dall'iran perché non puoi se finisci così oppure chiedi di mandare la transazione bitcoin ma tu vuole e dici che sta aspettando l'autorizzazione a questa transazione per un background check sulla tua posizione di reddito la tua gabbia salariale eccetera eccetera se finisci così ed è il modo in cui la parte che vuoi si finirà il tuo vantaggio usare bitcoin rispetto a usare paypal si annulla certo uno dice io ho ancora un vantaggio che va su va su il valore va su il prezzo il prezzo va su semplicemente perché bitcoin segue certe regole che non possono essere cambiate se io seguo un bitcoin che in realtà è totalmente definito da una terza parte centrale dal punto di vista tecnico finirò alla fine di non farmi più anche disturbo di avere le chiave private perché tanto se la controparte dice che non posso spendere non posso e quindi alla fine si finirà in un approccio di virtualizzazione tale che avere dei bitcoin avere dei futures denominati in bitcoin emessi da una parte centrale un certificato sarà esattamente identico e a questo punto semplicemente quello che starò facendo sarà speculare finanziariamente sul valore del vero bitcoin che altra gente sta usando attivamente poi anche lì una volta che arriva non più la censura dei pagamenti ma anche la censura del risparmio che prima o poi arriva perché se si comincia a vedere che bitcoin sale e la moneta fiat scende di potere d'acquisto ecco che arriva come Roosevelt con l'oro negli anni 30 arriva alla confisca anche nelle democrazie occidentali arriva alla confisca ovviamente e quando arriva alla confisca il tuo bitcoin regolato finisce confiscato mentre il tuo bitcoin vero continua a essere un bitcoin vero quindi si dividono questi due mondi ma non è che sono due mondi uguali il primo mondo di fatto l'ho detto prima ma lo ripeto è un altcoin nel senso che bitcoin funziona secondo c'è bitcoin definito come l'implementazione di alcune regole di consenso se bitcoin se una transazione bitcoin è fatta in un certo modo è valida il mio nodo l'accetta se non è valida il mio nodo non l'accetta restringere queste regole per esempio questa sarebbe valida ma devo prima chiedere alla banca e al governo se lo è significa fare un soft fork significa cambiare regole di consenso per ridurre la quantità di consenso se ovviamente ci sono molte obiezioni tecniche questa mia metafora per esempio sì ma solo se li getti anche i blocchi che includono altri tra va bene ci sono un sacco di obiezioni da fare però di fatto imporre che vuoi sì e email è un soft fork rispetto al consenso di bitcoin perché bitcoin dice che se il tuo nodo bitcoin una transazione bitcoin invalida la deve ricevere uguale a tutte le altre non deve metterci becco non deve andare a inserire euristiche sociali e cose del genere se li inserisci sei fuori da bitcoin quindi praticamente la creazione di un altcoin un altcoin che verrà data pro quota a tutti quelli che hanno un bitcoin regolamentato un po' come un airdrop di una shitcoin e questa shitcoin sarà una cosa diversa da bitcoin di cui alla fine non riuscirà neanche a mantenere il prezzo l'unico vero vantaggio di questa shitcoin è che se tu hai in mano questa shitcoin e vuoi tornare a avere bitcoin non fai altro che mixarla e ti trovi improvvisamente con un bitcoin libero avrei un'ultimissima domanda abbiamo tempo giusto perché è un pochino ampia proviamo a restringerla al più possibile allora non sappiamo neanche se in realtà verrà implementato o meno questo futuro aggiornamento volevo chiedere secondo voi queste pressioni che comunque sono sempre più presenti e sempre più forti sul mondo bitcoin potrebbero velocizzare e o incentivare l'implementazione di diciamo idee come cross input signature aggregation avete voglia di parlarne due secondi spiegarlo secondo voi potrebbe velocizzare l'implementazione di queste cose secondo me lo dico no nel senso che una cosa bella è brutta di bitcoin è che è lento ed è macchinoso perché deve funzionare nel modo giusto per cui ho pensato quindi servirà molto test servirà un consenso pressoché totale insomma secondo me questa pressione qua non ripeto non velocizzerà queste cose qua perché le velocizzerebbe solamente se quelli che fanno development di bitcoin e lavorano in questo mondo lavorano nel modo sbagliato invece stiamo vedendo che sempre più developer decidono di lavorare in modo anonimo sempre più aziende decidono di lavorare in un certo modo per non subire questo tipo di pressione sempre più utenti decidono di utilizzare bitcoin nel modo giusto quindi facendo coin join utilizzando lightning eccetera 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 per avere maggior privacy per essere intoccabili ecco che questi utenti saranno tranquilli perché comunque insomma queste regole stupide poco possono fargli a loro nel medio termine quindi possono comunque aspettare quindi secondo me non velocizzerà la cosa lo spero però realisticamente non credo che sarà così concordo con Riccardo appunto la pressione non andrà a funzionare più di tanto sui sviluppatori seri che lavorano nel modo che Riccardo ha descritto non solo ma non sarà neanche solo positiva perché alcuni diranno c'è un attacco alla privacy degli utenti quindi è importante introdurre immediatamente dei forchi di consensus che migliorino e incentivino l'utilizzo di best practices di privacy per esempio CISA cross input ma altri magari non tra i sviluppatori seri ma sicuramente saranno voci che diranno e no il regolatore sta attaccando la privacy quindi se noi gli diamo un biscottino gli diamo un contentino e non mettiamo queste nuove feature magari ci attaccherà un po' meno quindi il tentativo di appeasement sicuramente arriverà arriveranno quelli che dicono l'attacco alla privacy ci spinge a non mettere queste feature altrimenti bitcoin verrà attaccato proprio e non posso fare i miei numeri di trading e quindi voglio che bitcoin sia il meno offensivo possibile per l'espione e voglio che rimanga il più docile e agnellino possibile quindi saranno sicuramente due argomenti non credo che quel secondo argomento vincerà ma credo che andrà a compensare abbondantemente la pressione dall'altra parte che dice presto urgenza ci vuole quindi secondo me appunto per altri due anni CISA non la vediamo peraltro anche quando la vediamo Taproot è un esempio non è che si attiva CISA in produzione e improvvisamente tutti fanno coin join shareando le firme non è così oggi Taproot funziona ma non è che tutti i multisig sono diventati Taproot anzi praticamente ancora nessuno e i primi che diventano Taproot perdono hanno un set perdono privacy invece di guadagnarla devono aspettare che c'è c'è anche un gioco del luogo della gallina quindi possiamo immaginare la spara a caso non lo so due anni per l'attivazione non c'entra discussioni test magari a raffinamento di altre di altre di altre proposte dal check template verify fino fino alla any preview out magari una buona sintesi di tutte queste robe che girano i test eccetera eccetera il dibattito di attivazione con quelli che dicono un mio Dio non attiviamo altrimenti il regolatore si arrabbia e ci fa male e poi l'attivazione e poi magari altri due anni anche soltanto per avere un buon numero di wallet usati da tutti quanti gli utenti tutti i giorni che in maniera assolutamente continuativa usano questo tipo di logiche poi anche lì questa è l'immagine che ho in assenza di cioè se bitcoin veramente domani diventa inutilizzabile salvo che con coinjoin cioè se tutto precipita in maniera se arriviamo ai roghi in piazza dei bitcoiner è chiaro che magari attenzione maggiore la privacy comincia a crescere quindi bisogna anche vedere come va l'escalation geopolitica e interna ok potrebbe essere un futuro non così distopico però o lontano volevo chiudere in allegria ci stava chiudere in leggere vi ringrazio tantissimo per il vostro tempo e per questa live che secondo me è stata estremamente abbiamo parlato di tante cose è stato estremamente ha inglobato un sacco di argomenti abbiamo penso discusso abbastanza dell'argomento wasabi con join privacy alternative abbiamo trattato a tutto tondo quello che era l'argomento quindi se non avete nulla da aggiungere io salutare un pochino tutta la community vuoi dire qualcosa Riccardo? eh ragazzi bisogna studiare bisogna comunque mettersi sotto e leggere e seguire persone come Giacomo che vi portano lungo la retta via del massimalismo tossico non perdete tempo in 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 metaverso e queste cose qua queste buzzword qua cercate un attimo di capire cos'è Bitcoin l'importanza di Bitcoin e cercate di utilizzarlo nel modo corretto bravo Riccardo bravo sì e non fatevi spaventare il fatto che sia un pozzo senza fondo vuol dire che dovete studiare Bitcoin che dovete imparare che non dovete perdere tempo in altre cavolate ma il fatto che sia un pozzo senza fondo non vuol dire che non potete cominciare con via di mezzo soluzioni parziali riduzione del danno cioè non è che dovete subito arrivare a essere più importante maker di joint market o niente già cominciare a capire già mettervi su un full node capire come funziona attaccarci il vostro piccolo electrum senza fare con già è molto meglio di quello che state facendo adesso usando un exchange magari oppure attaccando il vostro ledger a ledger live in chiaro su ClearNet quindi potete già fare molti passi avanti senza arrivare alle cose di cui discutevamo stasera poi secondo me il massimalismo è la naturale evoluzione di tutti quelli che entrano in questo mondo le criptovalute alla fine siamo stati tutti shitcoiner prima o poi e alla fine penso che se non sei massimalista o sei stupido oppure c'hai comunque degli incentivi a non esserlo perché comunque la politica di Montanelli se non sei massimalista dopo due cicli non hai cervello se non eri shitcoiner a primo ciclo non hai cuore vi lasciamo su questa bellissima frase di Giacomo e un saluto a tutti ragazzi e spero che il video vi sia piaciuto ciao ciao grazie ciao